Auguro a tutti quanti voi di vivere questi giorni di passione, di morte, di risurrezione. Di viverli perché c'è un pericolo, il pericolo che abbiamo il cuore così duro che questi giorni non ci dicono niente. È un grave pericolo, è un pericolo per i preti, è un pericolo per le suore, è un pericolo per le mamme, per i papà, per i bambini, per i ragazzi. Il pericolo che questi giorni non ci dicano niente per il cuore duro che abbiamo. Attenti, e lo dico a me, dico a me stesso attento. Allora, già questa sera dobbiamo chiedere alla Madonna la grazia di sciogliere il nostro cuore duro in questi giorni. Dobbiamo chiedergliela alla Madonna, prima di andare a dormire, dite un'Ave Maria e ditela con questa intenzione. Oh Madonna, sciogli il mio cuore perché questi giorni non passino in vano. Ecco, lasciamoci con questo fioretto, chiamatelo fioretto. Questa sera, prima di dormire, dite un'Ave Maria per chiedere alla Madonna di sciogliere il nostro cuore in questi giorni.